bene andiamo a visitare questa mattina uno dei borghi più belli d'italia civitella del tronto ultima roccaforte degli abruzzesi contro ahimè l'esercito piemontese nella notte dell'unità d'italia i piemontesi ci hanno provato però ci sono usciti forse hanno vinto i piemontesi ovviamente tutti i monumenti di questa zona sono stati messi in sicurezza con tiranti avvenicoli vari ponteggi a causa delle lesioni del terremoto del 2009 molto particolare grazie a tutti grazie a tutti You only wish that I knew how to go on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now how to make it through But I'll get over you And it's not like I'm gonna hate you It's what it is, nothing left that we could do Even though it hurts right now, we will make it through I'll get over you I'll get over you We were holding on to something That we both know couldn't work So we should try to say goodbye You know we had our problems So now we have to try to move on Baby, you and me, we're so messed up together Even if we tried, we'd be stuck here forever I don't understand right now how to make it through But I'll get over you Adesso andiamo a vedere una cosa molto particolare La ruetta di Taglia, la via più stretta Si dice che in alcuni punti sia di soli 40 cm di larghezza Andiamo a vedere Adesso è questa La ruetta D'Italia La via più stretta Sono magra Come è bello perdersi nei meandri di questi borghi bellissimi Forse poco conosciuti ma bellissimi Con dispiacere questa palesia Non è più utilizzabile A causa dei trolli del terremoto Bene, lasciamo il borgo di Civitella È stata una bellissima esperienza Molto molto particolare E adesso scendiamo lungo la valle Andiamo a Campi A mangiare il panino con la porchetta La porchetta di Campi Buonissima Per chi è, figlia? Anzi, per la taglia Very good La cosa particolare di Campi È la sua scala santa Che è una scala in legno All'interno della chiesa Di 18 scalini mi sembra Che però si può percorrere solo Ed unicamente in ginocchio Per ricevere l'indulgenza Però si può avere solo In determinati giorni dell'anno L'indulgenza degli altri giorni Puoi anche percorrere Non te la darmi Con la fregazione Per ricevere l'indulgenza Per ricevere l'indulgenza Per ricevere l'indulgenza Per ricevere l'indulgenza